E' stata la suggestiva cornice del San Ruffillo Country Resort di Dovadola ad ospitare la presentazione a sponsor, partner, inserzionisti e sostenitori della nuova formazione con cui la pallacanestro Forlì 2.015 Unieuro affronterà, dopo la sofferta ma meritata salvezza dello scorso campionato, la imminente stagione 2017-18 di basket di Lega 2. Un altro anno di basket a grandi livelli per Forlì, con che ambizioni? Le ambizioni sono quelle, prima di non rifare quello che è successo l'anno scorso, quest'anno non ci pensiamo nemmeno, però non si sa mai perché con le sfortune che abbiamo avuto l'anno scorso ci sta tutto nella vita, però spero che le sfortune siano andate tutte l'anno scorso e non ci siamo più quest'anno. L'ambizione è minima di stare nel centro classifica e se fosse possibile non entrare ma arrivare lì sotto i play-off che sono... perché i play-off ci hanno fatto morire veramente, se non siamo morti infatti ci manca poco. Un basket di alto livello di eletti si basa ovviamente sulla voglia, sulla partecipazione, sul tifo ma anche sugli aspetti economici. Come va questa società di Forlì? Beh, questa società di Forlì va molto bene perché a un certo punto quando è successo quello che è successo noi siamo andati alla tasca e abbiamo rifuso tutto quello che era capitato, lo so, per tutti siamo frai, però per noi... quest'anno speriamo di poter, di non dover far questo, però se c'è necessità vedremo un attimo cosa facciamo perché tutti gli sports ci stanno seguendo molto bene, oltre a seguirci molto bene tutta l'organizzazione ci segue e stiamo con il nostro nuovo direttore generale che è molto acculato in tutte quelle che sono. Valli ha fatto un'ottima selezione di giocatori che stanno stati dentro al budget, forse lì... a quel punto vediamo tutto il resto, se non succede qualcosa in particolare dovremmo rimanere dentro quello che ci siamo prefissati come budget generale. Lei da alcuni anni sostiene che l'A1 lo deve volere tutta la città, tutto l'ambiente, non solo la società sportiva. Ecco, l'ambiente, la città, come risponde alle vostre sollecitazioni? Beh, per adesso sta rispondendo abbastanza bene, ma per 1-2, per 1-1 tutto è una questione di investimenti. 1-2 costa da 1 a 1-3, 1-4, noi siamo sempre lì attorno a quelle cose. 1-1 viene a costare circa così, quello che mi hanno detto è che loro fanno i conti, da 3 in su e perciò lì bisogna trovare sponsor nuove, ma non solo sponsor, bisogna trovare anche la società che i famosi 5.000 posti, se non sono pieni, dovrebbero che fossero sempre, perché devono venire un po' dappertutto queste cose qui. La sigla 1-1, oltre che sulle maglie dei nostri giocatori, adesso compare in maniera proprio ciclopica anche sul palazzetto, come mai questa scelta? Beh, è stata una scelta in cui il palazzetto aveva bisogno di un restyling, l'1-1 si è sobbarcata l'operazione e dopo tutto abbiamo anche, così, l'1-1 ha pagato ulteriormente, oltre alla sponsorizzazione del basket, che sono entrate che sono molto interessanti per noi per poter far funzionare abbastanza bene, ecco tutto. E il palazzetto con questo qui c'ha tutto un altro tipo di appeal, diciamo. Siamo alla vigilia, fra poco parte il campionato, l'ennesimo campionato, carico? Assolutamente sì, carico io, carico i giocatori, carico anche il pubblico, perché comunque ci stiamo avvicinando alla soglia dei 2.000 abbonati, quindi un risultato clamoroso, devo dire, perché nonostante fossimo tutti confidenti della fedeltà dei nostri tifosi, però vedere che 2.000 persone credono nel nostro progetto dopo un anno estremamente difficile come quello di l'anno scorso, significa che anche nella nostra piccola storia siamo riusciti a darci e a crearci un po' di credibilità, che non fa mai male di questi tempi qua. Anche quest'anno però gli avversari sono di tutto rispetto nel nostro girone. Come al solito c'è uno sbilancio incredibile tra il girone est e il girone ovest, il nostro è in assoluto il girone più forte, purtroppo ci tocca confrontarci con squadre molte di queste, almeno 5-6 squadre costruite per tentare la promozione, quindi sicuramente il livello è altissimo, però crediamo che anche noi quest'anno dobbiamo avere una squadra su cui ci possiamo difendere. Poi il nostro obiettivo è sempre la salvezza, non dobbiamo mai dimenticarlo, speriamo di raggiungerlo non come l'anno scorso, ma in modo un po' più semplice, un po' più tranquillo per tutti noi. Tra gli avversari parliamo anche di derby, perché con Ravenna e Imola lo scasso stagione non c'è andata benissimo. L'anno scorso avevamo tanti derby, li abbiamo rimasti quasi tutti, l'anno scorso li abbiamo persi tutti, quindi devo dire che migliorare non dovrebbe essere difficile. Noi speriamo quest'anno di migliorare sicuramente, oltre che di salvarci, anche di vincere qualche derby. E la squadra come le pare? Beh, la squadra sicuramente, secondo me, è stata costruita seguendo un filo logico dettato dal nostro coach e dal nostro general manager Pasquali, quindi è una squadra che si adatta, secondo me, alle esigenze e alla voglia di Giorgio Valli di fare una squadra che combatte, che lotta, che non molla mai, che fa dalla difesa la sua arma principale. Sicuramente col bacio a disposizione credo che abbiamo fatto una buona squadra, ma sarà poi il campo a dimostrarlo. A proposito di investimento, di scelte da fare, lei è ovviamente un manager di Unieuro, come va la risposta dal punto di vista della visibilità? Avete riscontri? Beh, sicuramente abbiamo un buon riscontro, anche perché il campionato di A2 si svolge in quasi tutte città dove Unieuro ha la fortuna di avere dei propri punti vendita, quindi questo è importante per noi, per la notorietà del nostro brand e credo che sia anche questo un investimento che va nella direzione di portare la brand awareness del marchio Unieuro sempre a livelli più alti. Aggiungo anche che è anche un modo che ha l'azienda Unieuro di ringraziare la città di Forlì, perché Unieuro nasse tanti anni fa nella città di Forlì e se oggi è diventato il primo player italiano come numero di punti vendita sul territorio lo deve anche a tutto quello che è stato fatto da persone di Forlì che hanno lavorato da Unieuro. Una società giovane, con dirigenti giovani, si sta consolidando? Ma certamente, diciamo che l'assetto del societario composto da noi sette è un assetto già molto buono. Noi non ascoltiamo che se ci fossero altre persone con cui si possa condividere un percorso siamo assolutamente disponibili, come abbiamo sempre detto, ad aprirlo perché non abbiamo gelosie né fra di noi né rispetto ad altri. Obiettivi? L'abbiamo detto più volte quest'anno, un campionato sereno a differenza dell'anno scorso però strestando l'occhio a qualche ambizione che dentro di noi, come tutti gli appassionati, coltiva. Da dirigente e anche da tifoso come le avvi della squadra? Secondo me è una squadra completa, non ha buchi nell'organico, cioè non ha posizioni in cui è particolarmente debole. Questo secondo me è molto importante, ha una buona combinazione di esperienza nei giocatori di Liegro e nei due stranieri e di gioventù in tutti i giocatori italiani che hanno l'occasione per dimostrare qualcosa di importante per la loro carriera. Il Presidente ha sottoneato i 2000 circa abbonati che hanno sottoscritto appunto un impegno per tutta la stagione. Soddisfatto? Certo, certo molto soddisfatto. Chiaramente la nostra ambizione è di fare sempre meglio e quindi confidiamo che nel tempo che rimane ancora prima della prima partita di campionato ci possano essere ancora dei buoni sviluppi ma in ogni caso a prescindere dagli abbonati che pure sono i nostri sostenitori più fedeli il palazzito possa sempre riempirsi sempre di più soprattutto con un buon gioco da vedere da parte dei tifosi. Coach, squadra non cambiata, squadra rivoluzionata. Con che filosofia? La filosofia di trovare gente molto molto motivata perché ho scelto da ragazzi un po' al crocevia della loro carriera. Devono decidere un po' se diventare veri adulti oppure rimanere un po' così adolescenti come adesso si usa dire, ma non in senso dispergettivo, bamboccioni. No, ho trovato ragazzi molto motivati perché è un campionato durissimo, un girone ancora più forte e quindi abbiamo bisogno di gente che abbia dentro delle motivazioni personali fortissime. Una coppia di americani collaudata che viene da un altro campionato di A2. Sì, la scelta è stata proprio quella di mettere l'esperienza nei due giocatori stranieri insieme anche a Dilliero che comunque ha 29 anni e quindi devono essere loro a guidarci non solo nel fare i punti ma devono guidare proprio anche nell'educazione quotidiana, tecnica, tattica, tutto il gruppo che è ovviamente mediamente molto giovane. C'è fisico e talento? Diciamo e ce l'auguriamo, sicuramente ci sono dei potenziali, soprattutto tecnici da sviluppare e un atletismo ovviamente un po' rinnovato perché la squadra è un po' più giovane e quindi speriamo appunto di fare questo mix tattica, tecnica e fisico perché c'è bisogno. E gli avversari? Gli avversari purtroppo sono molto tosti perché noi speravamo che i gironi venissero in qualche modo ridisegnati, in realtà non è stato così, noi abbiamo squadre del nostro Gerone molto molto forti, senza togliere niente all'Alto Gerone c'è una differenza di almeno 10 punti proprio nel bottino personale delle squadre, quindi dobbiamo fare veramente un extra sforzo perché ogni domenica sarà durissimo. A proposito di ogni domenica, il pubblico una pressione notevole o un handicap? Ma no, io credo che alla fine i ragazzi abbiamo delle motivazioni intrinseche nostre e il pubblico di Forlì ci ha sempre dato una carica in più, lo ricordiamo benissimo, ci hanno sostenuto sempre, dovunque e comunque, ricordo le quasi mille persone giunte ad Ancona a giocare la predecissiva con Recanati, partiamo da lì quindi con rinnovato entusiasmo, noi per loro e loro per noi. Pubblico che basket vedrà, mille a loro o ragionate? Ma sai, un po' un po', nel senso che non abbiamo ancora, diciamo così, il DNA per essere iperveloci, però abbiamo un playmaker che spinge la palla e questo ci aiuterà a rubare qualche contropiede.